La società di pesca sportiva dilettantistica La Ceronda, con il patrocinio della città di Venaria Reale, organizza per sabato 17 aprile la giornata del Pierino, manifestazione di pesca per ragazzi fino a 14 anni. I piccoli aspiranti pescatori potranno imparare, attraverso la prova pratica di pesca alla trota e l'insegnamento dei soci, ad avvicinarsi a questo sport nel modo più adeguato, rispettando gli ecosistemi e gli equilibri ambientali. La manifestazione avrà inizio alle ore 14.30, presso il lago della SPSD La Ceronda, che si trova in fondo a sinistra di via Stefanat, a Venaria Reale. L'invito dell'associazione è per i bambini e le famiglie, e si attendono, come sempre, moltissime partecipazioni per cimentarsi nella pesca alla trota, sulle sponde del laghetto societario. I disponibilissimi soci saranno pronti ad affiancare i bambini. La SPSD La Ceronda informa che a tutti i partecipanti è garantita una prova di pesca gratuita, con 5 trote da portare a casa. Info www.laceronda.webs.com Telefono Andrea 339 39 655 27